Ciao a tutti ragazzi, sono iPhone Amatori e benvenuti in questo nuovo video Che sarebbe una puntata, un'altra puntata dei kit scelti da voi Wow, non voglio farmi vedere da nessuno Non inseguirmi te Allora ragazzi, scusatemi innanzitutto se in questi giorni non ho fatto video ma i stage Non so, in un'agenzia di viaggio a fare i stage Stamattina sono andato anche al lavoro Però non ho fatto il vlog perché mi sono messo a dormire in macchina Quindi capitemi, io da una settimana che non dormo praticamente più Lavoro mattina e pomeriggio C'è lavoro Vabbè vado a fare stage ma vabbè sempre lavoro Comunque ragazzi, allora Ripeto scusatemi perché non ho fatto video Ok è arrivato un messaggino ma a voi non interessa, ripeto Allora saluto Poker Satanico, LOL, HD, un po' di gente Ma non mi chiedete ragazzi di salutarvi nei video perché Ok se mi ricordo, se avete fortuna io vi saluto Ho visto che qui infatti me l'hanno chiesto e quindi mi sono ricordato Cioè non è che me l'hanno chiesto, mi hanno salutato e quindi mi sono ricordato di salutarli io Stupra i gatti Madonna non lo stupro i gatti Ok va bene, va bene stupro i gatti Va bene, allora ragazzi Il kit più quotato, più scelto, più votato Come dovete dire Più Non lo so Il più non lo so è stato il kit atleta Il kit atleta non so neanche com'è Ah già sta qui Allora il kit atleta Allora abbiamo 0 aria 0x aria Non so Non respiriamo quindi non avremo più aria quando metterò il kit atleta Poi avremo la velocità, la durazione stava di durata infinita La resistenza durata infinita E la forza penso durata infinita Ok sì Il prezzo è di 22 coin Portarci i vostri quanto costate un coin by atleta Perfetto ho fatto appena testo atleta Ho comprato atleta Se muoio mincavolo Se muoio mincavolo Allora mi sa che con un atleta ho due di velocità Non uno però di velocità Non so adesso se è così eh Comunque ragazzi Allora Mi raccomando votate il kit No votate Scrivete il kit che vorreste che scelgo Non so se ho detto bene la frase nel verbo Nel verbo e nel tempo giusto E io Sempre se quel kit vincerà la votazione Cioè se l'avete scritto in molti Lo sceglierò tra quelli Per fare la puntata ok Ciao cactus Ciao cactus Molte persone mi dicono che sono troppo normale E quindi Cioè che sono troppo anormale Scusate La parola normale Non la dovrei neanche dire Ma non importa Cioè la gente non mi segue perché dice Sono troppo down Ma non è un'offesa Non la prendo come un'offesa Tranquilli Si stavo scegliando il kit Ma va va bene La prendo più come un complimento Perché essere Una persona volante Come in questo caso Ok no Essere una persona Che non ha problemi È una cosa brutta Perché ormai Essere pazzi È l'unica cosa Per sfuggire a questo mondo Ma che cazzo rosso Ti vedi Vedi Poi dici iPhone amatore Non lo seguono perché è down È vero Eh Tu 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 Prendiamo della legna Anche perché Con il kit atleta Non mi danno niente Andiamo a far la crafting Prendiamo due stick Mettiamo la crafting Qui Andiamo a far picking Ehi Ciao 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 Prendiamo la pietra E adesso torniamo su Speriamo che nessuno Mi ha portato a benze Ok Sono mezzo rincoglionito Io da Non so quanto Da quant'è che non dormo Poi gallina Vedete Vedete cosa succede Non snorbire Vedete una gallina E vieni pazzo Vai Ok Oh Poi c'è qualcuno Andiamo ad ucciderlo Ciao 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 Andiamo a prendere E questa roba Andiamo se ne via Perché sennò Non mi fa il culo E adesso scappo via Dai Dessero Ciao ciao Che bucio Di culo Che io c'ho Salvo per mori Ammazzato Ma io c'è la fo Ciao ciao Basta raga Sono pazzi Mangiamoci le Bistecche Pegorane voi una Dai te la regalo Basta Allora abbiamo un arco Abbiamo rimediato un arco Ok Kit atleta mi sta piacendo per adesso Per adesso Ok Crafting Pessi di legno Ok si 81 81 si stanno avvicinando Si stanno avvicinando Galina si stanno avvicinando Che cosa posso fare galina Eh si sto dicendo a te Ah ecco appena ho scoperto che stavo a dire a lei Se n'è andata capito Va bene va bene va bene Va bene Non chiedo alle pecore Perché le pecore sono mute Lo sapete tutti quanti Quindi Non lo so Allora allora Vediamo un attimo Vediamo un attimo Ho anche la forza Più uno Ma non penso che non mi serve a nulla Fu fu Papapapapapa Porco cane Porco Ti ragazzi Allora io non so se la hug o qualcosa del genere Sono morto così Boh Secondo voi è hugger o no? Commentate nei commenti Giustamente Perché a me mi fa rosicare Quando muoio così Cioè io adesso la devo caricare per forza Perché se metto un kit Se scelgo un kit scelto da voi Se faccio la puntata Scusate Di un kit scelto da voi La devo caricare ugualmente Anche se Se perdo dopo un secondo Però mi farò vedere abbastanza il culo no? Quindi Non so ragazzi Pino Salciccia Due Panina e salciccia Rimortacci Due orte Perché qua sta due Ok? Niente ragazzi Il video finisce qui Scusatemi se non ho fatto video Fino adesso Scusatemi se non ne farò Molti la settimana prossima Perché gli stage mi distruggono veramente E niente Un saluto a tutti da iPhone Amatore Veramente Si sono rimasto malissimo Perché sono morto così Senza neanche un pre Boh Non mi hanno neanche detto ciao Boh Niente Morto Vabbè Un saluto a tutti da iPhone Amatore Nessendo matica Nessendo matica memorizzate questa canzone perché nel prossimo video ci sarà ciao